Le forti raffiche di vento che in queste ore all'Argentario hanno sfiorato i 100 km orari hanno spezzato anche le pale del mulino di Orbetello, simbolo dell'identità lagunare. Appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, il comune provvederà immediatamente al restauro per preservare la struttura costruita dai senesi nel 400 per macinare il grano e restaurata dagli spagnoli. Si tratta dell'unico superstite dei nove mulini che nel XV secolo erano stati costruiti nei dintorni della laguna. Le raffiche che hanno sferzato la costa hanno causato difficoltà anche ai traghetti in navigazione per l'isola del Giglio.